Buonasera a tutti, benvenuti al forum interreligioso del Centro Studi Interreligiosi della Gregoriana e benvenuti a coloro che seguono streaming, via streaming, benvenuti a voi che siete qui presenti un particolare benvenuto anche a Sua Eccellenza l'Ambasciatore qui presente in mezzo a noi, grazie per essere con noi e questa sera abbiamo il piacere di ascoltare una conferenza, una riflessione sul dialogo tra cristianessimo e buddismo in una terra che è anche il cuore del buddismo e dello Sri Lanka. Ci parlerà questa sera padre Dilan Perera che è un sacerdote, un gesuita, un sacerdote cattolico, un giovane sacerdote cattolico della provincia dello Sri Lanka, della Compagnia di Gesù. Padre Dilan si è laureato in biochimica presso la Mangalore University in India, poi successivamente ha conseguito il master in filosofia presso l'Università di Chennai in India e il baccalaureate in teologia presso l'Università Gregoriana. È stato ordinato sacerdote da qualche anno, nel 2016, e attualmente sta seguendo il programma di licenza in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico qui a Roma. I suoi principali interessi di ricerca riguardano gli studi biblici, la spiritualità ignaziana, l'ecologia, il dialogo interreligioso con il buddismo. Ho conosciuto, ho avuto il piacere di conoscere Padre Dilan proprio in Sri Lanka e visto che era qui e ha anche contatti con un centro importante di cui ci può fare anche accenno proprio sul dialogo cristiano-buddista in Sri Lanka, ho pensato di approfittare della sua presenza qui di studente al biblico per ascoltare la sua esperienza e anche le sue riflessioni su questo importante dialogo. Il tema di questa sera è Agape incontra Karuna, camminando insieme, realtà, speranze, sfide del dialogo cristiano-buddista in Sri Lanka. Ecco, lo ascoltiamo volentieri, come al solito vi ricordo che dopo il suo intervento abbiamo un buon tempo per poter fare domande, quindi osservazioni, quindi sentitevi pure liberi, perché vi ricordo che i forum interreligiosi hanno proprio questo carattere di apertura, di discussione in questa occasione. Quindi grazie ancora, grazie per essere stato qui con noi, per essere intervenuto qui da noi. Buonasera a tutti. E apriamo questa presentazione con la preghiera di generosità di San Ignacio di Loyola, degli esercizi spirituali, e preghiamo insieme. Prendi, Signore, e ricevi tutta la mia libertà, la mia memoria, la mia intelligenza e tutta la mia volontà. Tutto ciò che ho e possiedo, tu me lo hai dato, a te, Signore, lo ridono. Tutto è tuo, di tutto disponi secondo la tua volontà. Dammi solo il tuo amore e la tua grazia, questa mi basta. Sono rimasto sorpreso quando il professore Bon Giovanni mi ha contattato per parlare di un aspetto del dialogo interreligioso in Sri Lanka. Mi chiedo ancora cosa abbia visto di buono in me quando mi ha fatto la richiesta. Arrivati a questo punto, mi chiedo se vedrà del buono in me alla fine del mio discorso. Ma quando la richiesta è arrivata, non me la sono neanche sentita di declinare gentilmente l'invito, perché l'ho vista come un'opportunità di condividere qualcosa che nasce dalle mie esperienze come sri lanchese. L'unica difficoltà che ho espresso in merito è stata la mia lingua. Vi prego di avere pazienza. Non sono un esperto di dialogo interreligioso, né un esperto di buddismo, ma uno studente della parola di Dio al pontificio istituto biblico. Quindi il mio dialogo con voi consiste essenzialmente in frammenti di ispirazione che possono aiutare quelli tra voi che sono studiosi nel campo del dialogo interreligioso. In altri termini, si tratta semplicemente di parole, riflessioni ed esperienze personali che intendo condividere con voi. La mia unica intenzione è quella di darvi scintille di ispirazione e prego che possano trasformarsi in fuochi di ispirazione. Sono in debito con le ispirazioni che ho trovato nelle opere di padre S.G. Pereira, il primo gesuita dello Sri Lanka, che è stato uno storico anche e ha insegnato missiologia in questa prestigiosa università negli anni 1932 a 1933. e anche con le opere di padre Ello Shaspiris, gesuita, che è l'attuale direttore di Tulana, un centro di ricerca e dialogo nello Sri Lanka. Ha anche insegnato per un breve periodo in questa università ed è un noto teologo e studioso di buddismo. Sono grato per tutte le ispirazioni che ho ricevuto da queste grandi figure di gesuiti, anche gli altri del mio paese, per preparare la mia presentazione. Vorrei suddividere il mio discorso in tre parti. Nella prima parte vorrei esaminare il contesto storico del buddismo e del cristianesimo nello Sri Lanka. Nella seconda parte vorrei esaminare in particolare i concetti di Agape e Karuna. E infine vorrei esporre a voi le esperienze personali di dialogo, non usando le parole, ma basandomi su esperienze di vita reale. Spero che conoscete la posizione dello Sri Lanka. È una piccola isola nell'oceano indiano con una popolazione di 21 milioni di persone nota in passato come la perla dell'oceano indiano. Il Ramayana, l'antico poema epico indiano, scritto nel V secolo a.C., nomina l'isola come Lanka, che significa isola, in sanscrito. Gli antichi geografi greci la chiamavano Taprobana, gli arabi la chiamavano Serandeb. Più tardi i cartografi europei la chiamarono Ceylon e dopo l'indipendenza dalle potenze coloniali fu chiamata Sri Lanka. La sua posizione è molto strategica, proprio sotto l'India. E tutte le navi che erano diretto a oriente dovevano girare intorno a questa terra. La sua posizione ha attirato viaggatori e commercianti, amici e nemici, potenze coloniali e potenze mondiali dal tempo immemorabile. E questa tendenza continua ancora oggi. lo Sri Lanka è prevalentemente un paese buddista teravada e più del 70% della sua popolazione professa questa fede. È uno dei più antichi paesi di tradizione buddista dal terzo secolo avanti Cristo. Il paese divenne buddista quando il re Devanampiedis abbracciò questa religione in seguito all'incontro con Arhat Mahinda e i suoi compagni durante una delle sue battute in caccia. Con il re anche il popolo abbracciò la religione. Da allora tutti i re hanno avuto il ruolo speciale di aderire ai principi del buddismo e di rimanere il pilastro più forte della cultura buddista. Come sri lanchese non sentire come questa grande religione sia entrata in tutti gli elementi culturali del paese specialmente per la popolazione di lingua singhalese o singala che comprende quasi il 70% della popolazione totale. I buddisti dello Sri Lanka credono che lo stesso Buddha abbia visitato il paese in tre occasioni e possono anche vantarsi di conservare una reliquia dei denti del Buddha e di avere lo Sri Mabodi un albero sacro ricavata da un ramo dell'albero originale sotto qui Buddha raggiunse la sua illuminazione. I monaci che hanno il compito di proclamare il Dhamma gli insegnamenti originali di Buddha ancora oggi sono oggetto della più alta considerazione nella società dello Sri Lanka. Il tempio buddista è ancora oggi il nucleo spirituale di ogni villaggio tradizionale. Se pensiamo ad un dialogo sincero con i buddisti dobbiamo essere consapevoli di questa dimensione. Lo Sri Lanka è un paese fondato sui principi buddisti e il leader del paese ha una responsabilità speciale nel sostenere lo status di questa religione senza discriminare le altre. in questo paese un certo punto entra il cristianesimo non possiamo scartare la possibilità che San Tommaso Apostolo abbia visitato lo Sri Lanka lui che ha lavorato sia sulla costa orientale che su quella occidentale dell'India ma non abbiamo fatti storici concreti per affermarlo quello che possiamo affermare con sicurezza è che c'era una comunità cristiana persiana nel Sri Lanka nel VI secolo nell'antico regno di Anuradpur che consisteva addirittura di un sacerdote e un diacono era una comunità di rito siriaco che si occupava dei cristiani persiani che vi soggiornavano per motivi religiosi ma erano tutti stranieri i portughesi arrivarono nel paese Sri Lanka nel 1505 e secondo i documenti storici disponibili non c'erano indicazioni della presenza di cristiani a quel tempo il loro arrivo nello Sri Lanka fu un evento fortuito in un momento in cui cercavano il controllo commerciale ma presto entrarono nella politica locale dello Sri Lanka a causa delle tensioni politiche che erano presenti tra i regni locali con il commercio arrivò anche la religione ma la diffusione della religione non era la preoccupazione principale dei portughesi il primo gesuita a menzionare Ceylon non è altri che San Francesco Saverio che scrisse a San Ignacio quando si stava preparando per la sua missione da Lisbona scrive il 18 marzo 1541 un'isola dell'India abitata da gentili senza morì né ebrei dove era grande spazio per il Vangelo la prima missione regolare arrivò in questa terra nel 1543 quando alcuni frati franciscani furono inviati nello Sri Lanka su richiesta di un re locale vicino alla fascia costiera essi dovettero affrontare numerose difficoltà per il fatto dell'insincerità del re e la sua riluttanza a far diventare cristiani i suoi sudditi a peggiorare le cose c'era la difficoltà di far capire il cristianesimo alla gente per citare padre Esgi Perera le dottrine i pensieri e le idee cristiane non potevano essere facilmente espresse in una lingua in cui le parole connotano concetti estranei al cristianesimo una profonda conoscenza della lingua e una grande familiarità con l'uso dell'idioma erano necessarie per tradurre in singalese anche concetti elementari come Dio anima paradiso inferno peccato grazia e salvezza per diventare cattolico a quei tempi bisognava essere prima un portoghese era impossibile per un selonese essere un buon cattolico senza diventare allo stesso tempo un suddito molto leale e sottomesso del portugale e staccarsi completamente dalla cultura dalla politica e dalle tradizioni delle antenati fine della citazione erano altri tempi a peggiorare le cose c'erano la cattività condotta dei funzionari portughesi e dei cristiani portughesi i misfatti dei portughesi la loro illegalità e avidità la loro pressione e tirannia e la loro negligenza nei confronti del re convertito e lì l'osservanza dei comandamenti di Dio e della Chiesa scandalizzarono il popolo facendo un cattivo servizio al cristianesimo ancora padre Pereira continua i misfatti dei colonialismo portugese per parlare chiaro anche ai giorni nostri i buddhisti conservano questi pregiudizi contro noi cristiani i portughesi furono espulsi da Silon in 1658 quando gli olandesi entrarono nella politica dello Sri Lanka prendendo il loro posto come potenza coloniale i portughesi lasciarono dietro di sé migliaia di cristiani soprattutto nella fascia costiera che cade sotto gli olandesi si trattava di nuovi convertiti fili di convertiti e discendenti dei portughesi che si erano stabiliti nel paese quello che seguì fu un periodo di persecuzione contro i cattolici gli olandesi gli olandesi bandirono tutti i preti cattolici dal paese sotto la pena di morte abolirono il culto cattolico e costrinserò tutti i cattolici a battezzare sposarsi e seppalire secondo il rito olandese segue un periodo di persecuzione estrema molti abbandonarono la fede a causa della persecuzione e furono anche attirati dai privilegi che seguirono per i convertiti olandesi c'è una figura santa che dobbiamo ricordare quando parliamo della storia della chiesa cattolica in Sri Lanka si tratta di padre Joseph Vass di Goa India che apparteneva all'ordine del oratorio di San Filippo Neri per citare padre Perera la chiesa cattolica a Ceylon umanamente parlando non avrebbe avuto una storia degna di essere raccontata se padre Joseph Vass non fosse arrivato sulle sue rive in un momento particolare e non avesse agito in un modo particolare perché la situazione a Ceylon aveva bisogno non di un prete qualsiasi non solo di un buon prete e di un santo prete ma di un apostolo fine della citazione entra nell'isola nel 1686 quando la persecuzione olandese era al massimo la sua principale forza era quella di padroneggiare le due principi lingue del paese singhla e tamil proprio per questo potere eludere la vigilanza degli olandesi e si conquistò la benevolenza e l'amirizzazione del re di Kandi fu l'unico sacerdote del paese per nove anni fino a quando arrivarono altri membri della congregazione per aiutare nel ministero non posso non menzionare la generosità da parte del re Kandiano un regno l'ultimo del Sri Lanka che ha dato rifiugio ai cattolici perseguitati delle zone controllate dagli olandesi le sue esperienze con padre Vass avevano trasformato il suo modo di vedere i cattolici la storia ci ha lasciato l'esperienza agapica di padre Vass con suo nipote sacerdote quando il regno di Kandi fu colpito dalla pandemia di Waiolo Egli rimase nella città malata che fu abbandonata da tutti comprese il re anche i parenti più stretti dei malati per la paura del contagio mortale servendo i malati e persino seppalendo i morti la storia registra l'apprezzamento da parte del re che permisse la libertà pratica della religione e persino la costruzione di chiese per citare padre Pereira nessuna casa cattolica a Ceylon ha avuto così tanto che fare con la fede cattolica come i re singalese di Kandi questi re erano tenuti a proteggere la religione principale della terra il buddismo come ci si aspettava da loro fin dai giorni del primo re che abbracciò il buddismo nel terzo secolo avanti Cristo Kandi fu l'ultimo regno dello Sri Lanka che cade nella mani della potenza coloniale finale gli inglesi nel 1796 e l'ultimo re fu esiliato nel 1814 ci sono testimonianze storiche della persecuzione dei cattolici nel loro paese da parte degli inglesi ma per motivi politici essi liberarono i cattolici dalle restrizioni degli olandesi danno piena libertà alla chiesa di Ceylon il cattolicesimo sia il leader buddhisti che quelli cristiani hanno avuto un ruolo di primo piano del guadagnare l'indipendenza dagli inglesi nel 1948 questa conferenza non deve essere una storia dello Sri Lanka ma è opportuno conoscere il background storico della terra dove queste religioni hanno radici profonde ci aiuta a ridurre gli errori del passato in Sri Lanka abbiamo cattolici di lingua singhese e tamil il che ci ha dato un vantaggio in più nel dialogo con la religione buddista la familiarità con la lingua e la cultura singhese apre una porta verso il buddismo per il fatto già menzionato che il proprio singhese è essenzialmente buddista il radicamento nella lingua e nella cultura singhese apre una porta tra queste due religioni dove ci si può muovere liberamente avanti e indietro sono sicuro che è stata la prima volta in tutto il mondo che Agape ha incontrato Karuna sotto forma di due grandi religioni nel mio paese da allora il buddismo e il cristianesimo hanno consistito per quasi 500 anni anni in Sri Lanka è stata un'esperienza di apprendimento reciproco e di crescita insieme per creare una società umana migliore una canzone dello Sri Lanka cattura splendidamente questa idea il testo recita così possiamo vedere grandi statue e stupa che abbiamo costruito versando il sudore del tempio e della chiesa è la nostra fede è la nostra forza ed è la nostra vita è un'esperienza di umilità anche solo avvicinarsi a queste strutture gigantesche e meravigliarsi della forza che sta dietro a questi edifici per me queste sono le meraviglie che fioriscono quando Agape e Karuna entrano nel cuore umano per entrare nel cuore del mio discorso di oggi vorrei utilizzare una delle opere d'arte del centro di ricerca e dialogo Tulana si tratta di un basso rilievo che ha usato anche sul post dell'evento di oggi è un'opera del monaco buddista dello Sri Lanka venerabile Uttaranandtero nelle parole di padre Aloche Spiris questo basso rilievo è unico nella storia del mondo nel senso che questa è la prima volta che un monaco buddista presenta un'immagine di Cristo in pittura scultura o qualsiasi altra forma d'arte questa è stata la sua prima immagine di Cristo e con questa ha iniziato a dipingere molte altre immagini questo basso rilievo mi ha fatto fermare pensare e riflettere si tratta della prima rappresentazione artistica in assolito di Gesù Cristo ad opera di un monaco buddista ed è ispirata a Giovanni capitolo 13 cosa gli ha fatto scegliere questo episodio della vita di Gesù tra molti altri eventi simili che si trovano nei Vangeli cosa l'ha attirato in questo modo questa immagine lo ha aiutato a fare una connessione con la sua stessa vita monaco buddista e l'abbandono di tutto per seguire la via del Buddha e del Dhamma qui l'artista monaco ha raffigurato e la sua interpretazione naturalmente la lavanda dei piedi di Gesù Cristo come cristiani abbiamo per lo più limitato ritualmente la lavanda dei piedi alla liturgia del Giovedì Santo ma per noi dello Sri Lanka che siamo cresciuti con una con la cultura buddista si tratta di una pratica molto comune che ha luogo durante tutto l'anno in molte forme diverse ci sono molti altri elementi simbolici che sono presenti nell'immagine ma rimaniamo all'atto stesso della lavanda dei piedi il lavaggio dei piedi è un dovere quando i fedeli buddisti accolgono un monaco nelle loro case per donare un pasto per sentire discorsi religiosi e canti buddisti il venerabile uttaranam datero ha preso parte a un pasto in comune invitato da una famiglia secondo il normale ethos buddista è meritorio offrire un pasto ai monaci e i monaci normalmente arrivano con le loro ciotole da mendicante in mano prima di entrare nel locale dove si consuma il pasto di solito un anziano della casa lava i piedi dei monaci versa acqua sui piedi li asciuga e li accolie venerandoli si tratta di un usanza che ha radici nella tradizione monastica per cui i monaci dipendono dai laici per il loro sostentamento e questi monaci escono dai loro monasteri di solito per chiedere cibo e predicare le scritture buddiste sono sempre i laici che lavano i piedi dei monaci inchinandosi davanti a loro buddha gosa famoso studioso buddista del quinto secolo non esagera quando dice che persino un re si chinerebbe in venerazione davanti un monaco che fosse tale anche da un solo giorno il contrario sarebbe insolito nessun monaco si inchina davanti a un'autorità secolare prendendo la veste hanno rinunciato al mondo per seguire il sentiero del buddha e del damma il che è un atto degno di venerazione in questo modo la venerazione del monaco non fa riferimento solo a quel atto specifico in quella specifica situazione in quanto i monaci diventano l'incarnazione della presenza vivente del buddha e del damma passiamo all'evento biblico di gesù che lava i piedi dei suoi discepoli nel vangelo di giovanni capitolo 13 prima della festa di pasqua gesù sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al padre dopo aver amato i suoi che erano nel mondo li amò sino alla fine l'evangelista Giovanni ci dice chiaramente il motivo dell'azione di gesù durante l'ultima cena gesù amava i suoi discepoli e li amò fino alla fine questo gesto è una prefigurazione del suo ultimo gesto d'amore sul albero dell'amore dove non saranno presenti tutti discepoli ma questa ma questo era il momento di mostrare il suo amore in azione in una manifestazione concreta Gesù si china a lavare i piedi sporchi e pieni di polvere dei suoi discepoli ma l'evangelista usa il verbo greco agapao per esprimere l'amore di Gesù verso i suoi discepoli è l'amore incondizionato di Dio per gli esseri umani e degli esseri umani per Dio è lo stesso amore della prima lettera di Giovanni capitolo 4 carissimi amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore un altro modo per dire questo è che senza agape mai potremmo conoscere Dio è il primo dell'agape sulla conoscenza il primato dell'agape sulla conoscenza è lo stesso tipo di amore che San Paolo esalta nella prima lettera ai correnzi capitolo 13 queste dunque le tre cose che rimangono la fede la speranza e la carità ma di tutte più grande è la carità lo stesso verbo agape è usato sempre caruna è la versione buddista dell'agape come l'agape caruna è un amore redentore è il desiderio di rimuovere la sofferenza caruna è contro raga che è l'aspetto erotico sensuale egoista e acquistivo caruna è contro duecia che è odio e cattiva volontà a raga e duecia si oppongono rispettivamente a raga e a moha che sono l'amore non egoistico e il perdono la dimensione della conoscenza diventa salvifica solo con caruna la presenza dei buddha che sono apparsi ne sono apparsi finora 28 volte 28 28 volte e apparirono nel mondo umano e solo per caruna nei confronti della moltitudine per mostrare la via di uscita dalla sofferenza e per raggiungere la liberazione finale la decisione di Gautama Buddha che fu l'ultima ad aprire fu di dedicare il resto della sua vita alla predicazione del sentiero della liberazione questa decisione è considerata la sua vittoria finale Sumara il dio della morte il tentatore così i sei anni di ricerca della verità salvifica di Gautama Buddha non finirono con l'accusione della pagna o gnosi salvifica ma si evolsero in 45 anni di caruna e o coinvolgimento compassionevole con la gente con il mondo attraverso l'amore disinteressato per i suoi abitanti i tre valori ultimi del buddismo sono il Buddha il Dhamma e il Sangha che formano la comunità religiosa questa formula di adessione a Buddha Dhamma che sono insegnamenti di Buddha e Sangha che è una parola che dice la comunità monastica buddista viene ripetuta e la promessa di seguire viene rinnovata numerose volte durante la vita di un buddista il Sangha rimane elemento più tangibile e accessibile dei tre che rende veramente libera una persona quando un fedele lava i piedi dei monaci buddisti e li venera e la più alta forma di rispetto che eli può mostrare verso il Sangha essi sono l'incarnazione vivente della persona di Buddha e il Karuna che si genera nel cuore del fedele che rende questo atto ancora più sublime non è un atto di sottomissione ma un atto di Karuna torniamo alla lavanda dei piedi di Gesù gli disse Simon Pietro non mi laverai mai i piedi gli rispose Gesù se non ti laverò non avrai parte con me il nostro Signore e Maestro si è umiliato per iniziare i suoi discepoli non si è fermato lì ha invitato i discepoli a fare lo stesso e attraverso i suoi discepoli lo stesso invito viene fatto a tutti coloro che lo accettano come loro Signore e Maestro non c'è altro modo di sperimentare l'agape è un comando ad avere la stessa esperienza agapica di Gesù ripetendo l'atto solo attraverso l'amore agapico i discepoli avranno una parte nel regno di Gesù c'è un altro evento nell'angelo di Luca che merita la nostra attenzione una donna peccatrice lava i piedi di Gesù usando le sue stesse lacrime e i suoi capelli per asciugarli ecco una donna una peccatrice di quella città saputo che si trovava nella casa del fariseo venne con un vasetto di olio profumato e fermatsi dietro si ranicchio piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime poi li asciugava con i suoi capelli li baciava e li cospargeva di olio profumato Gesù Gesù dice per questo ti dico le sue le sono perdonati i suoi molti peccati poiché ha molto amato invece quello a cui si perdona poco ama poco Gesù esalta l'atto d'amore della donna la parola greca agape appare ancora una volta come forma verbale di amore senza agape non c'è redenzione la donna riceve il perdono perché il suo amore era amore di agape in abbondanza ci sono molti altri modi di mostrare l'agape allo stesso modo karuna non è solo un sentimento o una singola espressione che si genera nel cuore dei fedeli laici che si chinano a lavare i piedi del sangha entra nei cuori di tutti coloro che sono lì riuniti assistono a questo atto a partire del bambino più piccolo fino al più anziano della comunità laica tutti noi impariamo assistendo a ciò che diventa una pratica che si trasmette da una generazione all'altra nella cultura buddista i nostri anziani sono venerati gli anziani che lavano i piedi sono venerati dagli altri come Gesù ha iniziato i suoi discepoli a dimostrare agape lavando i loro piedi la maggior parte degli abitanti dello Sri Lanka sono iniziati dai loro genitori e dagli anziani a venerare gli anziani inchinandosi profondamente e toccando i piedi come sono stati istruiti dai loro sesti anziani la cultura buddista ha iniziato i bambini a rispettare gli anziani venerando loro i genitori e tutti coloro che meritano rispetto noi che siamo stati formati dalla cultura buddista veneriamo i nostri genitori e gli anziani almeno una volta al giorno come espressione concreta di amore e il modo della cultura buddista dimostrare il karuna che è presente in tutti noi nessuno stende una stuoglia davanti alla persona davanti alla quale si china in venerazione ricordo bene il modo in cui i bambini mi mostravano rispetto con questo bel gesto questo bel gesto quando suelgevo il mio ministero pastorale in una parrocchia come sacerdote appena ordinato i miei sentieri erano gli stessi quando mostravano l'atto di venerazione e quando mi chinavo durante la liturgia del giovedì santo per ricordare il grande atto d'amore di Gesù in questo atto due cori si uniscono a volte questi bambini si chinavano sulla rivoli d'acqua sporca riscaldati dal sole di messo giorno nel mio modo di pensare anche questo modo di lavare i piedi come nell'atto della donna peccatrice che lava i piedi di Gesù come vi ho detto ci sono molte forme per mostrare questo gesto il Buddha non solo predicava la via per la fine della sofferenza ma egli sesto serviva ai malati lavando e pulendo non solo le piaghe pursolenti ma anche gli abiti pursolenti e sporchi di sangue c'è la famosa affermazione di Buddha chi assiste i malati assiste me com'è simile l'affermazione del nostro signore maestro in Giovanni capitolo 13 verso 8 se non ti laverò non avrai parte con me qualcosa di bello è successo anche il 18 marzo in 2019 quando un gruppo di monachi buddhisti è venuto nella chiesa per pulire il luogo dove 114 cattolici inocenti erano stati uccisi negli attentati della dominica di pasqua durante la messa non ho mai assistito a qualcosa di simile in tutta la mia vita ho certo visto monaci buddhisti pulire i loro tempi ma in questo caso sono semplicemente venuti a pulire un luogo che è stato sporcato dal sangue e dalla carne di così tante vittime innocenti come ho detto i monaci buddhisti non si inchinano davanti a nessuno ma in questo gesto ci hanno mostrato che ci sono molti altri modi per mostrare Karuna che è presente nei loro cori agape incontra Karuna due tradizioni monastiche si incontrano nella prasi le espressioni di Karuna sono un segno della profonda religiosità che è presente nell'espressione monastica della cultura buddhista e l'espressione agapiche d'amore sono parte integrate del cristianesimo monastico potrei dire con la massima convinzione che l'incontro che l'incontro tra agape e Karuna ci aiuterà molto a capirci quando abbiamo elementi così comuni nelle nostre spiritualità è facile incontrarsi rispettarsi e imparare gli uni dagli altri questo incontro ci apre un cammino per un autentico dialogo tra cristianesimo e buddismo qui il nucleo del cristianesimo entra in contatto diretto con il nucleo del buddismo dando vita e espressioni visibili e concrete di agape e karuna tra queste due grandi religioni in questo approccio i buddisti in Sri Lanka possono anche scoprire il vero Cristo rifiutando le loro nozioni di un Cristo coloniale che pur non essendo la vera buona notizia tuttavia continuano ancora a perseguitare la coscienza culturale buddista entriamo nella parte finale della presentazione vorrei farvi conoscere una grande personalità della storia della chiesa cattolica dello Sri Lanka si tratta di padre Marceline Jacqueline un oblato di Maria Vergine che ha dato un immenso contributo come musicista paroliere autore ed esponente della cultura nativa la sua caratteristica principale è che era conosciuto come il padre cattolico del tempio buddista a causa del suo profondo radicamento nella cultura buddista era profondamente rispettato dai monaci buddisti così come dai fedeli buddisti e dai cristiani nello Sri Lanka perché tutti sapevano che il suo approccio era diverso nelle sue stesse parole sono singhalese la mia religione è cattolica e la mia cultura è buddista suo padre era un fervente cattolico e sua madre era una fervente buddista nella persona di padre già qui vediamo la perfetta integrazione di agape e caruna fu a casa sua che incontrò agape e caruna e l'impatto che questo ebbe nella sua vita fu rivoluzionario il suo personaggio è un perfetto esempio di vero dialogo non solo con parole ma entrando nelle vene della vita delle persone in questo momento anche vorrei ricordare con gratitudine mia nonna e anche mia madre che mi hanno introdotto ad agape e caruna fin dalla mia infanzia attraverso le loro stesse azioni di vita mia nonna proveniva da una famiglia cattolica molto tradizionale e la sua vita è stata piena di agape fino alla fine mia madre proviene da una famiglia tradizionale buddista è diventata cattolica poco prima di sposare mio padre quando è entrata a far parte della mia famiglia ha portato in dono caruna avendo vissuto 31 anni della sua vita profondamente radicata nella religione buddista non sarà una bugia di dire che oggi mia madre è entrata profondamente nel modo agapico di amare anche più di mio padre che è stato cattolico per tutta la sua vita la maggior parte dei miei parenti sono buddisti una volta all'anno i fratelli le sorelle i cugini di mia madre venivano sempre a casa mia per il natale e andavamo nella casa della famiglia di mia madre ogni volta che c'era una festa religiosa tradizionale non ricordo di aver mai parlato o discusso di religione ma sono cresciuto assistendo alla bellezza di queste due grandi tradizioni religiose senza che la mia identità cristiana ne fosse sminuita tutti questi incontri erano pieni di agape e caruna ancora facciamo tesoro di questa esperienza tra le nostre famiglie non voglio annoiarvi ulteriormente con le mie esperienze ma voglio solo dire che senza di esse la mia vita di prete sarebbe stata diversa da prete se non avessi avuto queste esperienze non avrei accettato di essere il relatore di questo forum per concludere non possiamo entrare in dialogo dimenticando completamente il background storico del paese per riconciliarci con il passato potremmo aver bisogno di vedere la realtà così come accettando anche i momenti dolorosi e le incomprensioni tra noi sono molto fiducioso che ci sia molto spazio per un dialogo sincero tra cattolicesimo e buddismo nello Sri Lanka vi ho mostrato la possibilità di un iniziazione dove Agape incontra Karuna ci sono molti altri elementi comuni che si uniscono e creano un sentiero dove possiamo camminare insieme come fratelli e sorelle come dice San Ignacio negli esercizi spirituali questo cammino deve essere una manifestazione d'amore in nazioni concrete di disponibilità a lavare costantemente i piedi gli uni agli altri qualsiasi viaggio insieme ci pone davanti a molto sfide secondo me la sfida principale e iniziare un dialogo senza nemmeno un po' di Agape e Karuna può avvenire solo attraverso la nostra familiarità con le scritture e le tradizioni che sono come sorgenti che non si asciugano mai un monaco buddista dello Sri Lanka cattura questa idea in modo molto bello nel suo poesia singhela dove una conversazione ha luogo tra il monaco e la statua di Buddha nella stanza del santuario del tempio proverei a tradurlo per noi per voi per avere un'idea della poesia un giorno ho aperto la porta della stanza del santuario che era piena di fiumo fumo di incenso e potevo malapena vedere la statua di Buddha a causa del fumo oh mio signore Buddha per favore dimmi come puoi stare dentro questo santuario che è pieno di fumo e calore oh sono ben abituato a questo ma sentire le cose dalla sala di predicazione che vengono detto nel mio nome come se le avessi detto io questa è la cosa più difficile da fare coloro che diffondono odio e divisione con le loro parole sono quelli che non hanno mai capito le parole del signore Gesù o Buddha non è sufficiente indossare una tunica portare un abito o semplicemente professare una fede se non vediamo le nostre religioni nei nostri pensieri nella nostra mente e nelle nostre azioni tali individui costituiranno una minaccia e una sfida per qualsiasi dialogo non c'è nessuna giustificazione per la violenza in nessuna forma usando le scritture nessuna giustificazione permettimi un'ultima citazione così finiamo si tratta di una sezione della dedica del libro Gesù di Nazareth e Gesù di Barat di Padre allo Cispiris dove scrive della bella amicizia che ha avuto con un grande tero si chiamava Valangoda Arnand Maitritero cito le parole di Padre Pires il tuo ultimo adio è chiaramente incastonato nei nostri cori per non essere mai cancellato ho potuto capire il nucleo del buddismo solo attraverso i libri che mi hai dato e non mi hai dato solo sperimentando la tua vita se un'anima liberata come te è venuta all'esistenza attraverso una certa disciplina scritturale sono giunto alla conclusione che deve essere vera usando il criterio di Gesù che ci ha detto dai suoi frutti riconosciamo un albero buono da un albero cattivo che possiamo essere benediti ad incontrare agape e carona a viverla in azioni concrete e quando ciò accade a sorridere ampiamente nei nostri cori grazie ringraziamo davvero padre di Lann per questa bella relazione anche testimonianza testimonianza della sua esperienza di vita testimonianza anche di spiritualità e probabilmente ecco le persone che sono qui o quelle che hanno ascoltato mi daranno ragione insomma che avevo ragione a farti venire a parlare di questo incontro profondo al di là ora dei temi che possono essere ampliati e come sapete i forum non hanno come dire sempre diciamo non hanno la possibilità ecco di approfondire tutti i temi ma ecco di presentare anche i temi in generale e di offrirli anche per una riflessione personale quindi sono molto contento grazie e voglio rispondere alla tua domanda del perché io avevo un debito di ospitalità perché una delle prime volte che sono andato in Sri Lanka che ancora non era prete diciamo ovvero ancora non è stato ordinato mi ha accompagnato me mia moglie anche a fare qualche giro ma qualche incontro e quindi è stato un bel momento però ecco c'è un debito anche di di ospitalità verso un paese che sto conoscendo via via un debito che io dico anche d'amore per questo paese che in cui si sperimenta amicizia gentilezza fede nelle varie attività negli incontri e che viene da un lungo periodo di sofferenza e tutti conosciamo una guerra civile pesante e quello che ho scoperto negli ultimi tempi ecco il padre di là non l'ha menzionato ma forse possiamo puoi anche dire qualche parola questo processo di riconciliazione interessante che c'è in tutto il paese in cui la chiesa cattolica ha un ruolo veramente anche importante nel collegare e mettere insieme le varie realtà che sono state in conflitto quindi veramente grazie e anche se è online non so padre Aloysius Piris anche un saluto a lui ecco per il lavoro il grande lavoro di dialogo che fa in questo paese e contributo alla riflessione teologica ecco apriamo quindi grazie ancora apriamo il nostro forum se ci sono domande osservazioni curiosità io ho già delle domande che mi sono arrivate mi sono arrivate dal professor Trianni che purtroppo non ha potuto essere qui ma ci ha seguiti e mi ha posto tre domande vediamo fa sempre troppe domande no allora dice allora tre domande osservazioni dice si possono mettere in relazione bodhisattva buddista e il santo cristiano prima domanda seconda domanda si può fare un paragone tra una religione fondata sulla relazione con una persona vivente ed una religione in cui non c'è il concetto di persona e la terza che forse è un po' collegata alla seconda è su che cosa si fonda Karuna se non c'è la persona nel buddismo magari chiarire questi punti ecco brevemente dobbiamo farlo brevemente magari dai qualche punto poi c'è qualche altra osservazione qual è la prima domanda allora la prima domanda era se si possono mettere in relazione il bodhisattva buddista e il santo cristiano e poi diciamo questo discorso della persona del rapporto tra due religioni in cui una è centrata sulla persona vivente l'altra non centrata sulla persona secondo quello che dice il professor Trianni e quindi come Karuna possa ecco su cosa si fonda Karuna sì non sono un scolo di buddismo ma posso dire le cose conoscono il concetto di bodhisattva viene da piuttosto dal buddismo di Mahayana non di Theravada è molto prevalente in Mahayana il buddismo il concetto di bodhisattva è una persona come un santo così dico sì e possiamo dire il concetto di bodhisattva e il santi nella chiesa cattolica possiamo mettere insieme ma quando dicono bodhisattva loro veramente hanno un alto livello è fuori della una persona e per venire per la seconda sì il buddismo non parla su di una persona ma come ho detto durante il mio disposizione quando qualcuno vede il sangha c'è l'aspetto del buddha e dhamma insieme sì veramente non c'è una persona ma c'è un concetto già esiste la presenza di buddha è visibile nelle sue parole che esistono si chiamano dhamma anche nei monaci buddhisti ok grazie non so che ora grazie grazie va bene va bene grazie grazie qualche altra osservazione ecco prego c'era prima il padre ok presentatevi brevemente grazie sono padre Pietro direttore di sedos ma anche specialista in buddismo insegna all'università cattolica di Luva Luva in Belgio si fa pensare la domanda dell'ambrogio non c'è una persona e la reazione è no c'è la sangha no allora per i cristiani anche la persona è non individua ma è connesso con le altre e allora questa è la vera persona la risposta era nella l'unione delle due grazie mille per mettere Karuna e Agape insieme era un po' una sorpresa perché la Karuna compassion è parte del Mahayana buddismo piuttosto che il Theravada buddismo nel Theravada buddismo a Sri Lanka abbiamo avuto un po' il problema con un libro del Papa Benedetto nel tempo Benedetto no era prima ancora Giovanni Paolo secondo il threshold of hope e la reazione a Sri Lanka era forte erano anche le morte e anch'io non ero missionario in Giappone e so lì la relazione con il buddismo non c'è un problema ma sento in Sri Lanka è forte l'impatto della storia e quando ho sentito che anche il cristianesimo non ha dato un bel segno con la colonizzazione quando si sente quello è ancora un cammino da fare penso per mostrare il vero cristianesimo e incontrare il vero buddismo di Sri Lanka ho avuto un incontro inscritto con un scuola di Theravada buddismo ma ho sentito che c'è ancora un grande problema con il Dio il Dio del buddismo non si può dire non si può parlare di Dio questa è forse la storia dentro per una domanda è per lei qual è la cosa che il buddismo deve o posso imparare di cristianesimo a Sri Lanka questa grazie se causa del colonialismo in Sri Lanka abbiamo dato non un grande esempio come vi ho detto ancora rimane dentro di loro anche la conversione era forzata non abbiamo nessuna cosa storica per confermare ma ancora loro portano dentro di loro e tutta la religione cristianesimo è stata una cosa forzata ma la storia dice all'inizio quando i missionari sono arrivati nello Sri Lanka i monaci erano molto amichevoli con i cristiani ma sappiamo i tempi c'erano diversi e noi abbiamo voluto per battesare tutti tutti i popoli ma ora abbiamo 500 anni nel cammino e come vi ho spiegato sì i buddhisti i monaci non si chinano davanti a nessuno e anche quando entrano nel tempio non possiamo avere una conversazione diretta così sempre c'è un livello alto quando un laico andrà un tempio c'è un altro livello di conversazione ma quella distinzione non è presente nella chiesa cattolica veramente c'è tra fedeli tra i preti i religiosi c'è una veramente fratellanza amicissia quello molto visibile anche quando un laico viene a parlare con un sacerdote con una sora il rapporto è veramente c'è un amicissia che non presente quando un laico buddista incontra un monaco così loro vedono tutti vedono come come vi ho detto anche nella mia famiglia e loro veramente vedono quell'aspetto per me quella è una grande iniziazione come detto non credo dire le cose con le parole ma con la gestione anche nella gestione cristiana come la 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 testo tutto è rovesciato ho partecipato a un progetto molto interessante in questi anni su questione delle vedove dopo problemi dell'aiuto della chiesa cattolica in alcuni progetti con vedove in alcune zone quasi tutte buddiste e questo legame profondo nella zona dei laggi anche con sacerdoti cattolici con laici con volontari che all'inizio dava qualche problema con i modanci ma poi si è capito ecco questo lavoro insieme per cui davvero è diventato un lavoro di grande rispetto di grande amicizia anche nei villaggi più remoti molto interessante quindi anche gli stessi monaci poi hanno sono state ricordo un episodio dove le donne buddiste sono partecipato a vari momenti sono andati a parlare con i monaci per dire noi vogliamo continuare in questa direzione molto interessante quindi gli stessi monaci poi hanno ripreso un lavoro un contatto con i gesuiti che lavoravano in quel contesto lì dello Sri Lanka molto interessante questo processo c'era un'altra domanda noi diciamo più dell'amicizia più di conversione l'amicizia ma cristiani con altri come i fondamentalisti sempre portano per loro vogliono numeri quello crea una tensione nel paese per gli altri per i buddisti tutti sono cristiani non vedono una differenza e cristiani questo è un grande sfida al momento c'era una domanda io mi chiamo massimiliano vengo da corea una piccola osservazione volevo fare del cristianesimo questo agape il valore dell'amore ha una posizione veramente come lo possiamo dire primaria e suplema assoluta cioè anche il motivo stesso che dio ha creato il mondo ma anche il motivo per cui Gesù Cristo è venuto è diventato l'essere umano era l'amore ma io nel buddismo soprattutto lì nella terapada c'è un altro valore che più diciamo più importante più fondamentale noi la libana però credo che questi due valori agape e karuna possano avere la stessa funzione e questa è la mia osservazione anche insomma recentemente io ho scoperto un concetto Raymond Panikar ha parlato di equivalenza omeografica e volevo condividere insomma questa omeomorfica omeomorfica come ho detto sono un po' nervoso omeomorfica funzionale comunque equivalenza funzionale certo è stato molto interessante è stata molto interessante la sua presentazione soprattutto questo confronto con un'immagine così concreta lavare i piedi grazie forse tutti pensano è più facile di avere un contatto con agape e pania con l'aspetto del sofia come visto sapienza sapienza ma per me quando vedendo quel dipinto mi ha fatto di pensare perché lui ha usato da tante immagini sì quando parliamo sul buddismo diciamo di pania quello di sapienza ma per me più di parlare sapienza quando parliamo su sapienza forse c'è il pericolo di entrare in un dibattito ma quando vogliamo avere un dialogo è meglio di avere una cosa più simile di sapienza ma caruna è anche l'amore redentore la stessa cosa come agape c'è agape e caruna c'è sofia e pagna sapienza insieme così è più facile di avere un dialogo con sofia e pagna e agape e caruna senza andare oltre grazie ma vorrei dirvi non sono esperto soltanto ho vistito la mia vita e ancora sto riflettando anche vorrei tornare nel mio paese e forse se Dio mi chiama posso anche lavorerò nel campo interreligioso a un grande maestro posso assicurare qualche altra osservazione ci sono qui anche alcuni dello Sri Lanka vero si anche loro possono parlare sanno più di me impegnato anche nel dialogo vediamo se c'è qualche domanda bene allora se non ci sono altre domande noi ci avviamo alla conclusione quindi ringraziamo ancora padre di Lamperera per questo tempo che ci ha dedicato per questa opportunità per questo sforzo che ha fatto ma alla fine il risultato è molto positivo per noi quindi ringraziamo per questa testimonianza e gli auguriamo di proseguire i suoi studi il suo approfondimento il suo cammino e anche il suo desiderio di ritornare a lavorare nel suo paese nel suo amato paese quindi grazie ancora di tutto a me non resta che ricordarvi del prossimo appuntamento di lunedì prossimo cambiamo ovviamente il forum prevede il forum cristianessimo islam questa volta dopo due incontri sul rapporto cristianessimo e religioni culture dell'asia il prossimo incontro il titolo è la fede un coraggio nel perdono e verrà parlare padre Jacques Murat che appartiene alla comunità di Marmusa comunità fondata da Paolo Dall'Oglio e ci parlerà in anticipo della sua la sua testimonianza è stato prigioniero dell'isis per parecchio tempo e quindi ci parlerà di questa sua esperienza così complessa ma soprattutto in vista del suo cammino della sua scelta di un cammino in dialogo con con l'islam quindi vi aspettiamo alla solita ora quindi grazie ancora a tutti per la partecipazione grazie buonasera grazie 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 grazie